buongiorno appassionati del crimine bentornati sul canale se non ci siamo mai visti io sono andrea e oggi voglio portarvi un caso avvenuto in florida ahimè anche questa volta la protagonista di questa vicenda è una ragazza giovanissima che tutto pensava meno che quelle sarebbero state le ultime vacanze della sua vita partiamo come sempre dall'inizio perché voglio farvi conoscere in maniera più dettagliata possibile christine lazzaro lei è nata a rochester new york l'8 di agosto del 1972 da kathleen e frank che erano i suoi genitori aveva un fratello più grande di due anni più grande esattamente di nome frank terzo e invece una sorellina più piccola che aveva 9 anni meno di lei di nome danielle quando christine era solo una bambina all'età di 12 anni nel 1984 tutta la famiglia si era trasferita a iron de coit sempre a rochester christine era una bella ragazza dal sorriso contagioso e anche dopo il divorzio dei suoi genitori era sempre rimasta la cocca di papà era una bella ragazza fuori ma quello che la rendeva speciale davvero era il suo carattere e la sua personalità travolgente era l'anima della festa con lei che se c'era da divertirsi non si tirava affatto indietro il suo sogno più grande era quello di diventare una stilista infatti era andata a studiare al morro community college proprio per rendere poi la sua grande passione un lavoro a tutti gli effetti e questo college era appena 15 minuti da casa sua dunque all'età di 21 anni christine quindi studiava e lavorava part time come cameriera in un ristorante chiamato east ridge family restaurant che era da appena due minuti da casa sua un uomo di nome tom piccolo gestiva lei insieme a tutti i colleghi un'altra ventina di ragazzi ma sicuramente lei era la migliore di tutti questo perché si impegnava proprio in quello che faceva e anche grazie al suo carattere era proprio portata a questo tipo di lavoro christine stava risparmiando perché voleva trasferirsi in un'altra casa con le sue tre migliori amiche rita filippone loren moratti e kelly pagone e christine era davvero un'amica speciale avrebbe fatto di tutto per quelle ragazze all'inizio del 1993 christine aveva conosciuto un ragazzo di nome carl jeffries i due si piacevano davvero tanto ma abitavano un po' distanti questo perché lui era un giocatore di basket e doveva fare sempre gli allenamenti in carolina del sud molto distante da dove abitava christine ma i due ogni volta che potevano si vedevano ed erano felici così nella primavera del 1993 poi christine insieme alle sue amiche aveva programmato un viaggio a daytona beach in realtà era un gruppo di 17 persone e avevano trovato un hotel molto economico molto conveniente proprio sulla spiaggia chiamato Howard Johnson suo padre frank era molto contento per sua figlia voleva che lei si svagasse un pochettino anche perché lei era sempre o a lavorare o a studiare era una ragazza davvero molto impegnata pertanto era contento per lei voleva che andasse via e soprattutto non era per niente preoccupato perché d'altra parte lei sarebbe stata con tantissime altre persone il 9 di aprile del 1993 tutti erano partiti da rochester per dirigersi verso daytona beach appunto in florida e erano tutti molto felici ovviamente e appena arrivati avevano prima di tutto fatto il check in nell'hotel la stanza di christine era al tredicesimo piano e poi erano andati direttamente a fare un giro per le vie di quella città piene di negozi il 10 di aprile quindi il giorno successivo tutti i ragazzi erano andati in spiaggia ma la sera avevano ancora ovviamente voglia di divertirsi pertanto avevano deciso di andare al razors night club cioè una discoteca anzi la discoteca più famosa e importante della zona questo locale era sempre molto affollato ed istava appena due minuti a piedi dall'hotel in cui soggiornavano tutti i ragazzi in questa discoteca si poteva accedere dall'età di 18 anni ma era possibile bere alcolici solo dall'età di 21 e ovviamente christine essendo nata l'8 di agosto e invece il viaggio era avvenuto ad aprile non aveva ancora compiuto l'età adatta dei 21 anni appunto ne aveva solo 20 ma era riuscita ad aggirare questo problema procurandosi un documento falso erano arrivati in questo locale alle 9 ma non necessariamente tutti i ragazzi dovevano per forza stare sempre insieme si erano dati solo appuntamento a una certa ora per ritrovarsi ma a quel punto christine non c'era già più la sua amica rita però non era tanto preoccupata questo perché ovviamente si stavano divertendo tutti pensava sicuramente che la sua amica fosse in mezzo alla folla ma in realtà non era così aveva chiesto in giro e l'avevano quasi in molti anzi non quasi tutti molti l'avevano vista uscire dal locale in compagnia di una persona ad un certo punto però si era davvero fatto troppo tardi per cui tutti i ragazzi erano tornati all'hotel e rita era convinta di vedere la sua amica proprio lì ma in realtà non era così christine non c'era ma rita era davvero molto stanca e anche tutti gli altri ragazzi per cui si erano addormentati ma la mattina del giorno dopo quindi dell'11 di aprile ancora non c'era nessuna traccia di christine le amiche più strette di christine avevano chiesto agli altri ragazzi se per caso avessero avuto contatti con christine ma in realtà nessuno l'aveva vista avevano quindi pensato che forse la ragazza avesse passato la notte con qualche ragazzo ma anche questo sembrava abbastanza strano perché christine era andata lì per stare con le sue amiche e non per passare una notte con il primo sconosciuto d'altra parte lei era anche fidanzata quindi non era un atteggiamento proprio da lei in ogni caso avevano deciso lo stesso quel giorno di scendere giù in spiaggia proprio davanti all'hotel convinti che da un momento all'altro christine sarebbe apparsa ma in realtà non è successo in realtà la situazione era molto diversa da quella che credevano gli amici di christine infatti il giorno seguente l'11 di aprile a debari esattamente una cittadina circa 30 miglia da dove alloggiavano i ragazzi un uomo che stava passando sulla dirksen drive aveva notato un bagliore bianco a fianco della strada l'uomo era rimasto incuriosito quindi era andato a controllare più da vicino e aveva scoperto che quel bagliore provenisse da una maglia bianca di una donna sdraiata a terra l'uomo appena si era accorto di ciò che stava guardando era corso al minimarket più vicino per chiamare il 911 ovviamente all'epoca i cellulari ancora non esistevano o perlomeno lui non ne possedeva uno pertanto era dovuto andare fino al negozio più vicino il detective arthur era stato chiamato per andare a verificare i fatti e proprio nel posto che aveva indicato l'uomo aveva trovato una ragazza bellissima ranicchiata su un lato distesa per terra ovviamente morta come dicevo la maglia bianca era quella che dava quel bagliore insomma che aveva visto l'uomo che contrastava però tantissimo con il rosso del sangue di cui era macchiata a fianco del corpo di questa ragazza i detective avevano trovato delle tracce di pneumatici e con delle sostanze apposta ne avevano preso il calco dopodiché a fianco di questo corpo sempre avevano trovato un bossolo a circa un metro e poi anche una borsetta quindi gli agenti ora pensavano assolutamente che fosse bastato aprire la borsetta per capire chi fosse quella ragazza stesa a terra ma in realtà no perché all'interno della borsetta c'erano ben due carte d'identità una che portava il nome di una ragazza di 26 anni mentre invece un'altra di una ragazza di 20 che si chiamava christine lazaro ora noi sappiamo già che la carta d'identità della ragazza di 26 anni era falsa se l'era procurata christine per poter bere alcolici in discoteca il detective artur però non ci ha messo tanto a capire chi fosse quella ragazza stesa a terra questo perché il suo volto era identico a quello della carta d'identità della ragazza più giovane e in più il detective artur sapeva perfettamente che molti giovani andassero a ricercare documenti falsi per poter bere appunto nei locali quindi non era affatto rara come cosa in più christine aveva diversi timbrini di un locale che però il detective artur non riusciva a capire di quale locale si trattasse perché christine era stata trovata molto distante dal posto in cui soggiornava e poi quindi una volta scoperta l'identità della ragazza il detective artur ha dovuto superare lo scoglio più grande cioè dire ai genitori della ragazza che cosa fosse successo in realtà mentre invece suo fratello frank terzo ha dovuto scoprirlo purtroppo tramite il notiziario nel frattempo si erano fatte le 17 e le amiche di christine erano quasi oramai infastidite questo perché quella doveva essere la loro vacanza speciale mentre invece christine era sparita nel nulla senza nemmeno avvertire quella sera avevano in programma una cena fra amiche e christine si era già preparata anche l'abito nei giorni precedenti quindi non capivano che cosa stesse succedendo in realtà i detective nel frattempo avevano chiesto a frank suo padre dove alloggiasse christine per andare a fare domande e infatti il padre aveva risposto che si trovasse in quell'hotel a daytona beach insieme a tanti suoi amici gli agenti si dirigono all'hotel e quasi subito riescono a trovare le tre ragazze le tre amiche più intime di christine senza girarci troppo intorno dicono ciò che è successo cioè che christine è morta e le tre ragazze inizialmente sono scioccate ma poi sopraggiunge il dolore e le lacrime iniziano a scorrere bene o male però devono ricomporsi quasi subito perché i detective hanno bisogno di loro per capire che cosa abbia fatto christine nelle sue ultime ore di vita i ragazzi spiegano i detective di aver visto per l'ultima volta christine verso la mezzanotte uscire da quel locale in cui si trovavano e l'avevano vista uscire in realtà con un ragazzo che aveva la pelle scura quindi doveva essere afroamericano e in effetti carl il fidanzato di christine era proprio afroamericano quindi gli agenti avevano pensato che forse carl avesse fatto una sorpresa a christine e che fosse andato a trovarla proprio a daytona beach era parecchio distante in effetti perché carl si trovava in carolina del nord per gli allenamenti di basket ma era una cosa possibile intanto è arrivato il rapporto dell'autopsia la causa della morte erano stati due fori di proiettili al cranio e non c'era alcun segno di rapporto sessuale e neanche alcun segno di difesa quello che però ancora salta all'occhio sono i timbri che christine ha sui dorsi delle sue mani infatti se da una parte c'era il timbro della discoteca in cui era andata con i suoi amici dall'altra parte seppur sbavato si riconosceva bene un timbro che era di un'altra discoteca perché c'erano i numeri 7 0 e 1 il nome appunto di un'altra discoteca locale che ad oggi è chiusa ma all'epoca era abbastanza conosciuta distava circa mezz'ora a piedi dalla discoteca precedente in cui era andata christine ma appena una manciata di minuti in macchina quindi chissà quante persone avevano visto ancora christine dopo i suoi amici essendo lei andata in un'altra discoteca ancora quindi gli agenti indagano fanno domande e scoprono però che nel primo locale in cui christine era andata proprio con i suoi amici un cameriere si ricordasse perfettamente di lei lui in realtà era più un barman e si ricorda proprio di christine seduta al bancone insieme a un ragazzo dalla pelle scura si ricordava perfettamente di christine addirittura di come era vestita aveva una maglia da baseball bianca e aveva dei lunghi capelli neri dopodiché invece lui aveva un paio di jeans una maglia blu scura e un cappello sempre da baseball quindi i detective devono indagare su chi sia questo ragazzo che comunque da quello che diceva questo barman era assolutamente gentile con lei tornando quindi indietro i pagamenti del giorno precedente avevano scoperto che questo ragazzo avesse pagato con la carta di credito e che quindi avesse firmato con il nome di brent call gli agenti cercano di scoprire tutte le informazioni su questo ragazzo e scoprono che fosse uno studente universitario del minnesota quindi questo rendeva tutto un pochino più frenetico perché d'altra parte lui poteva essere il criminale che stavano cercando ed essendo lui del minnesota poteva andare via da un momento all'altro nel frattempo poi anche altri agenti stavano facendo domande a coloro che abitavano vicino la zona in cui christine era stata trovata e avevano scoperto che effettivamente molte persone avessero sentito gli spari ma pensavano si trattasse semplicemente di cacciatori le ragazze le amiche di christine nel frattempo il giorno seguente avevano già fatto le valigie stavano tornando a casa non se la sentivano proprio di rimanere in vacanza senza christine e d'altra parte erano anche spaventate da ciò che le era successo quindi altri agenti ancora erano andati a parlare proprio con brent col e lui si era dimostrato da subito assolutamente affabile o comunque sia disponibile ma quando gli agenti gli avevano fatto vedere la foto di christine lui aveva negato di conoscerla e aveva anche spiegato il motivo brent infatti spiega che la sera precedente si trovasse proprio in quel locale si che avesse offerto da bere ma alla sua fidanzata di nome jennifer mostra addirittura ai detective la foto di jennifer e loro ne rimangono esterrefatti questo perché jennifer era identica a christine sembravano davvero gemelle quindi si era trattato tutto di un enorme malinteso perché il barman non aveva visto christine aveva visto jennifer insieme a brent quindi restava da capire con chi christine fosse uscita dal locale la sera in cui è scomparsa e poi purtroppo morta perché i suoi amici erano sicuri che lei fosse uscita dal locale a mezzanotte insieme a un uomo afroamericano gli agenti poi erano andati a parlare con il manager e con i buttafuori del secondo locale in cui era andata christine al 701 e proprio lì il manager aveva riconosciuto christine solo tramite appunto la foto che i detective gli avevano fatto vedere aveva ricostruito i fatti in sostanza christine insieme al suo accompagnatore avevano dato dei problemi ai buttafuori infatti lui aveva un documento che era chiaramente falso e i buttafuori quindi non volevano farlo entrare nella discoteca ma era stato chiamato questo manager e lui aveva risolto l'inconveniente gli aveva fatti entrare lo stesso ma christine sembrava davvero molto nervosa quindi lui aveva diciamo così si era appuntato gli estremi di questo ragazzo perché nel caso avesse dato problemi poi successivamente all'interno del locale l'avrebbero fatto uscire immediatamente questo ragazzo secondo il manager era muscoloso dalla statura media aveva i baffi e soprattutto un taglio di capelli abbastanza particolare e comunque aveva la pelle scura come già detto in ogni caso avevano anche interrogato i membri dello staff all'interno del locale che se li ricordavano in effetti si ricordavano che però fossero felici che fossero disinvolti quindi forse christine era solo nervosa per il battibecco che c'era stato all'esterno del locale tutti coloro comunque che si ricordano di questo ragazzo fanno in modo di fornire più dettagli possibile in modo da creare un identikit gli agenti speravano appunto che divulgando l'identikit per daytona avrebbero finalmente scoperto chi fosse questo ragazzo ma in realtà non era così nel frattempo il 17 di aprile finalmente il corpo di christine era arrivato dai suoi genitori che potevano darle quindi una degna sepoltura avevano fatto una commemorazione il funerale e in più di 500 persone si erano presentate molte di loro avevano anche parlato di christine anche il fidanzato di christine viene interrogato ma lui ha un alibi di ferro infatti si trovava in carolina del nord appunto per gli allenamenti di basket e il suo alibi era stato confermato dal suo allenatore che l'aveva visto proprio agli allenamenti la sera in cui christine era morta ma in realtà carl si ricorda anche perfettamente che quella sera christine l'avesse chiamato tra la mezzanotte e le due di notte infatti lui non aveva bene la cognizione del tempo perché stava dormendo e christine chiamandolo l'aveva svegliato sapeva sicuramente però che erano rimasti al telefono per circa una mezz'oretta ma non si ricordava o comunque non sapeva proprio da dove christine stesse telefonando si ricorda soltanto che in sottofondo c'era come una televisione accesa gli agenti riescono a scoprire che la telefonata fosse stata fatta esattamente all'1 e 30 ma comunque non riescono lo stesso nemmeno loro a risalire da dove fosse stata fatta quella telefonata nel frattempo dopo dieci giorni dalla morte di christine le sue amiche avevano ricordato un particolare che però a loro non sembrava molto rilevante e adesso vi spiegherò il perché si ricordano bene che il giorno in cui erano arrivate proprio nell'hotel christine fosse andata a prendere qualcosa al bar e in quel in quel bar appunto aveva visto un ragazzo molto molto bello di nome scott anson ecco lui le aveva fatto qualche complimento insomma i due si erano messi a parlare e salendo su in in camera christine aveva detto alle sue amiche che la stessa sera sarebbe uscita anche con lui e così avevano fatto ma lui aveva la pelle chiara insomma era bianco quindi era proprio per questo che le amiche non avevano detto niente perché le indagini si stavano concentrando di più su un uomo dalla pelle scura gli agenti interrogano ovviamente quindi anche scott anson ma scoprono subito che lui non si trovasse nemmeno a daytona il giorno della morte di christine era infatti andato dai suoi genitori in un altro stato quindi non era proprio possibile che lui fosse implicato in questo crimine questo avvenimento però ormai aveva fatto il giro di tutta daytona e tutti erano preoccupati specialmente i proprietari dei locali che sapevano bene che un avvenimento del genere avrebbe rovinato i loro affari passano i mesi e la famiglia di christine è davvero disperata sono disposti anche ad offrire 100.000 dollari di ricompensa per ogni informazione utile che possa portare all'arresto del criminale ma in realtà nessuno si fa avanti quindi dal 1993 dobbiamo passare direttamente al 2010 esattamente ad aprile 17 anni dopo la morte di christine dal penitenziario appunto della louisiana proprio ad aprile del 2010 arriva una telefonata alla stazione di polizia che si era occupata precedentemente negli anni precedenti proprio del caso di christine il direttore di questo penitenziario aveva telefonato perché aveva delle informazioni da dare su un detenuto di nome romalus gordon ecco lui stava già scontando due ergastoli per aver ucciso due donne in stile esecuzione una ragazza di 29 anni che aveva due figli e che lavorava da l'achis e una donna di 64 anni che lavorava sempre da l'achis e infatti le due erano amiche e anche ottime colleghe nel 2007 romalus era stato proprio dichiarato colpevole di questi due omicidi e appunto condannato a tutti quegli ergastoli dopodiché aveva però scritto una lettera direttamente al direttore dicendo di essere cambiato di essere diventato un uomo di dio e di voler però confessare un altro crimine per liberarsi dal male romalus quindi conferma e confessa soprattutto di aver ucciso christine con una calibro 38 e aveva dei dettagli che solo il criminale poteva sapere proprio per questo i detective erano sicuri che fosse stato lui infatti conosceva perfettamente il la posizione dei fori di proiettile sulla testa appunto di christine uno era sulla guancia e l'altro sopra l'orecchio sinistro gli agenti quindi vanno direttamente da daytona in louisiana e proprio lì parlano con romalus che sostiene alcune cose lui dice di aver conosciuto christine il giorno in cui si trovavano alla discoteca e di essersi messi a parlare molto e si piacevano comunque molto quello era palese e in realtà lui voleva fare colpo su di lei perché le piaceva molto e aveva detto di essere un importante produttore discografico e poi i due si erano allontanati dalla prima discoteca per andare verso la seconda ma nel tragitto si erano fermati anche all'hotel in cui alloggiava romalus e lì i due avevano avuto rapporti intimi christine aveva chiamato il suo fidanzato proprio da quell'hotel e infatti lui aveva sentito la televisione della stanza d'hotel in pratica e in seguito i due appunto romalus e christine erano andati poi alla discoteca anche lì si erano divertiti ma uscendo romalus aveva visto che christine aveva due carte d'identità e questo l'aveva reso estremamente paranoico perché lui in realtà non era affatto un produttore discografico anzi stava scappando dalle autorità della louisiana quindi aveva pensato che christine fosse una specie di agente sotto copertura o qualcosa del genere quindi aveva paura di essere arrestato che lui quantomeno lo denunciasse e aveva quindi fermato la macchina mentre stava riaccompagnando christine al suo hotel l'aveva fatta scendere e le aveva sparato noi non possiamo sapere se la confessione di romalus sia del tutto veritiera questo non lo sapremo mai comunque sa di fatto che queste sono le parole che lui ha scritto nella sua lettera di confessione appunto romalus ha scritto poi anche una lettera a frank il papà di christine per chiedergli scusa per ciò che aveva fatto e frank non si sa come è riuscito a perdonarlo chi invece non l'ha perdonato sono state le amiche di christine che hanno detto chiaramente non ce ne importa niente se tu sei dispiaciuto o meno hai ucciso la nostra amica e noi non ti perdoneremo mai devi pagare per ciò che hai fatto il 25 di maggio del 2011 quindi romalus è stato anche processato per l'omicidio di christine e ha ricevuto come condanna un altro ergastolo ragazzi questo è tutto ciò che so riguardo questo caso spero l'abbiate trovato interessante tanto quanto me fatemi sapere come sempre se lo conoscevate già oppure no noi ci vediamo lunedì o giovedì con il prossimo caso true crime grazie a tutti per essere rimasti con me fino alla fine ciao a tutti grazie a tutti